Sì, partirò proprio dalle suggestioni stimolanti che ho sentito in questi interventi che mi hanno preceduto con alcune notte a margine che propongo al dibattito senza alcuna pretesa di né tirare le conclusioni né di avere delle conclusioni sull'argomento. Devo dire una cosa, alcuni degli interventi, non ultimo quello di Fiorello, mi ha, e poi tenterò di dire perché, nessuno si offenda, fatto venire in mente una frase nota di un certo signore che proprio negli anni in cui l'Inghilterra vittoriana si stava trasformando grazie ai mezzi di comunicazione, ovviamente mi riferisco ai treni soprattutto, ma non solo quelli. E' quello che pensava Formigoni, forse. No, non credo, non credo, questo signore si chiamava Karl Marx, diceva che la rivoluzione... No, non pensava lui. No, che la rivoluzione avverrà quando ci sarà una coscienza di classe. Oddio, non l'hai detto. Espetta, quando ci sarà una coscienza di classe. Ora io non ho nulla a che spartire con l'ideologia marxista o marxiana a seconda dei punti di vista. Però questa frase ha un'ambiguità che secondo me meriterebbe di essere analizzata, anche se molto in breve, anche nel contesto che noi stiamo affrontando. Non sono convinto, punto primo, che la competenza che ci consente di utilizzare le tecnologie di cui abbiamo a disposizione, corrisponda a un'educazione alla tecnologia. Non sono convinto che la competenza che molti hanno facendo gli ingegneri, piuttosto che gli informatici, piuttosto che non so quale altra attività che ha richiesto una formazione scientifica più o meno accademica, corrisponda nelle loro vite quotidiane a una mentalità scientifica. Non sono convinto che tutti questi curriculum plurititolati tecnico-scientifici corrispondano a una matura consapevolezza, a una matura cittadinanza tecnico-scientifica. Le due cose non vanno di pari passo e ci sono molti studi che questo dimostrano, oltre che testimonianze quotidiane con persone che possiamo frequentare. Conosco ingegneri che sono disposti a credere all'improbabile, non in termine tecnico, ma in termine proprio nel senso più deteriore del termine. Allora in questo senso, almeno in questo senso, Marx poteva avere ragione. È difficile fare una rivoluzione politica attraverso la tecnologia, eccetera, se non c'è una mentalità, se non si pensa davvero con le macchine e se queste macchine si usano avendo la mentalità che era propria di altri strumenti di espressioni, di lotta, di contestazione, di costruzione di consenso o quant'altro. La mia sensazione dall'esterno, questo non è il mio mestiere, è che molte volte è solo, diciamo, la confezione che è digitale. Il contenuto è molto analogico e quando le due cose non si coordinano debitamente, si creano degli scompensi che producono, al di là di successi o insuccessi, degli equivoci anche di natura epistemologica. A mio parere uno di questi equivoci è il seguente, si continua a guardare, e questa è la parte diciamo che non mi piace di quella frase di Marx, si continua a guardare alla tecnologia con un atteggiamento, con tutte le virgolette del caso, progressista, come se uno strumento sostituisse quell'altro e per il semplice fatto che lo sostituisce offre opportunità nuove in quanto nuove, migliori, eccetera, eccetera. La vecchia idea che c'è sia in ambito epistemologico di una conoscenza che è continua e cumulativa, in ambito tecnologico che le tecnologie porteranno a un avvenire per definizione e in sé, questo è il problema, è in sé migliore. Se al posto di questo apparato concettuale che io per comodità e semplificazione e velocità soprattutto chiamo progressista, si cominciasse a guardare alla tecnologia come una cultura, come un'evoluzione di idee incarnate, e ci si rapportasse ad essa con gli strumenti più sofisticati, che sono quelli compresi in quel grande paradigma di interpretazione dei fatti culturali e naturali che si chiama evoluzione, allora si capirebbero molte cose di più, delle tecnologie, del loro impatto, della loro possibile evoluzione e della loro possibile estinzione, che non segue necessariamente le regole del progresso, che non segue necessariamente le intenzioni della politica. E allora molti problemi troverebbero una riqualificazione sia epistemologica, sia culturale, sia sociale e probabilmente anche politica. Gli aspetti che gentilmente Paolo ricordava come mia occupazione, diciamo così, di ricerca, riguardano proprio le modalità con cui l'interazione con gli strumenti, a partire dal pollice opponibile fino agli strumenti che qua corredono la nostra tavola, modificano le nostre azioni e modificando le nostre azioni, creando nuovi spazi e modalità di intervento e di relazione nella pratica, modificano anche i nostri spazi concettuali. In quest'ordine, prima le azioni e poi i pensieri, e non viceversa come molti sarebbero più portati a pensare o a teorizzare. E da questa prospettiva fa emergere un aspetto piuttosto interessante, che qualsiasi strumento, che qualsiasi piattaforma, che apre un nuovo spazio fisico, virtuale, pratico, nel senso dell'azione, e concettuale, non è di per sé un'assicurazione sulle azioni che dentro quello spazio vengono coinvolte. Cioè non c'è uno strumento che è in sé buono. Questo non vuol dire che gli strumenti sono neutri, non lo sono affatto. Hanno una loro grammatica, hanno una loro forma pratico, concettuale, dentro la quale noi veniamo costantemente riscritti nelle nostre modalità di relazione e di costruzione di sensi e di significati. Ciò non vuol dire che abbiano perciò stesso un mandato etico che gli arriva dalla loro struttura, dalla loro semantica e dalla loro grammatica. Anche qui la mia incomprensione condivisa con quella di Andrea di dare a Internet il premio Nobel. Non perché io abbia qualcosa contro Internet, anzi, non perché io abbia qualcosa contro la tecnologia, anzi, ho scritto un libro che si chiama Perché la tecnologia ci rende umani, ma proprio guardata da questo punto di vista evolutivo che non ha alcuna garanzia progressista, nel senso che ho tentato di definire da questo punto di vista. E vi faccio due esempi che vi prego di non perdere come fossero una gratuita provocazione, di esperienze, diciamo così, sociali, una un po' lontana nel tempo, una drammaticamente vicina, che invece dimostrano esattamente cosa significa pensare con le macchine, ma che purtroppo non avevano dei fini così edificanti come magari noi o i nostri predecessori ci sarebbero augurati e noi ci saremmo augurati. Il Brasile, di cui parlava prima Fiorello, che io conosco abbastanza perché ci lavoro per parte dell'anno, nei primi anni dei Novecento, nei primi trent'anni del Novecento, ha subito sostanzialmente quelle trasformazioni che Marx vedeva nell'Inghilterra, di cui si diceva prima. Cioè il positivismo brasiliano, che è quello vetero positivismo europeo, cioè quello di Comte e compagni, che nel Brasile compare col suo motto perfino nella bandiera, Ordem e progresso, stava riplasmando da una parte l'esercito, Dall'altra parte la sanità, in pochi paesi al mondo come in Brasile ha avuto successo la criminologia lombrosiana, per farvi un esempio, terzi trasporti. Si stava cominciando a diffondere la rete ferroviaria, il che comportava delle trasformazioni sociali, culturali e politiche notevoli. Per esempio l'orario. L'orario non era più l'orario di Fortalezza, piuttosto che l'orario di Rio de Janeiro, piuttosto che si regolavano ciascuno il loro, ma doveva essere l'orario perlomeno di uno Stato, oltre che man mano si diffondeva la rete ferroviaria, l'orario di una federazione di Stati, perché se le nove di Rio de Janeiro doveva essere le nove di Fortalezza, se no come si mettevano d'accordo su quando partiva e quando arrivava il treno. Non è una cosa banale. Non solo nell'organizzazione, aspetto della competenza, ma nella percezione, aspetto dell'educazione, a una trasformazione tecnologica. Cambiava la velocità con cui circolavano le merci e i capitali, oltre che le persone. Sapete chi tra i primi si è adattato, e non uso la parola a caso, a questa nuova forma mentis, non alla competenza di farlo, ma a viverla in pratica? I primi che con più abilità si sono adattati a questa rivoluzione di ordine e progresso sono stati le bande di tali Kangaseros, ottimi strateghi del combattimento, che hanno, con gruppi di non più di cinque persone, rivoluzionato non solo le strategie di combattimento, ma le strategie di comprensione di come giravano le merci e i capitali. non erano più una banda unica, si sono separati completamente, e seguivano le logiche, le velocità, le modalità della tecnologia, prima che tutta la società a queste si fosse riuscita ad adattare. Se io dovessi, e non ho il tempo di dimostrarvelo dei fatti, ma potrei, perché me sono occupato a lungo di questi pericolosi combattenti, che hanno in poche unità tenuto per vent'anni in scacco i cinque stati nel nord-est del Brasile. Vent'anni, eh? Senza mai riuscirli a prendere. Se io dovessi indicare un vero movimento che sa usare e sa pensare la rete, beh, non penserei ai Viola, che mi sembra un partito travestito da digitale, penserei ad Al-Qaeda. Quelli sanno pensare, certo, non hanno evidentemente degli scopi non esattamente edificanti e costruttivi, ma quelli pensano come una rete, quelli pensano come un movimento che c'è quando colpisce e poi non c'è, che ha una gerarchia strutturata e finalizzata a un intervento. Quelli pensano come una rete e infatti sono un po' più efficaci anche. Guarda caso. Non è una provocazione, vi prego di non prenderla come tale, sarebbe stata di cattivo gusto da parte mia, non mi sarei mai permesso, ma io tento di guardare cose un po' a distanza come fosse un entomologo senza entrare in giudizi di merito o che altro. Ma tutto ciò arriva a dire che la competenza tecnologica è una cosa, l'educazione alla tecnologia è un'altra, ci passa l'adattamento. E l'adattamento richiede anche le condizioni ambientali, quella che un biologo chiamerebbe la pressione ambientale, che ne dicono alcuni di questi tempi sui giornali, è una componente piuttosto interessante nell'evoluzione sia biologica che culturale. E poi non dimentichiamo un'altra cosa e poi chiudo, prometto, che le idee che evolvono non come darwinianamente, ma piuttosto lamarchianamente, tendono al conformismo, come ha spiegato meravigliosamente il comune nostro amico Luca Cavalli Sforza in un bel libro dedicato all'evoluzione culturale. E la rete, da questo punto di vista, non fa eccezione, perché crea consensi e conformismi forse anche di più che le antiche piazze. quindi anche da questo punto di vista ci starei attento ad avere incondizionati entusiasmi verso lo strumento, non perché io abbia diffidenza verso lo strumento, ma proprio perché auspico una confidenza che diventi mentalità e che non risulti essere solo partecipazione legata alla competenza di accendere questo computer. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie.